Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, rieccoci qui anche oggi ore 13.30 come sempre per parlare insieme di Fantacalcio. Ieri abbiamo parlato di gestione del budget, oggi parliamo ancora di budget ma parliamo di un momento molto specifico dell'asta dove probabilmente ci siamo trovati almeno una volta tutti. Sto parlando della situazione, della posizione di essere chip leader all'asta del Fantacalcio. Essere chip leader è un qualcosa a cui molti aspirano durante l'asta ma come vedremo oggi essere chip leader ha sicuramente dei vantaggi ma anche degli svantaggi. Cercheremo quindi di capire come essere chip leader all'asta del Fantacalcio ma soprattutto come sfruttare questa posizione a nostro vantaggio e non a nostro svantaggio. Prima di continuare però come sempre mi raccomando se non l'avete ancora fatto like al video ma soprattutto iscrivetevi qui sotto al canale che è gratis, gratis come registrarsi su Starks di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Starks è la prima piattaforma in Italia dove è possibile acquistare i token dei nostri calciatori preferiti. Utilizzando link qui sotto a fronte del primo deposito di almeno 20 euro riceverete inoltre anche 15 euro di bonus. Questo è un ottimo momento per entrare su Starks perché al momento è possibile fare solamente compra vendita sui token dei giocatori ma verso fine estate arriverà anche il gioco di questi token e quindi entrare prima capire un po' le dinamiche della piattaforma potrebbe essere sicuramente un vantaggio. Vi aspettiamo link qui sotto in descrizione. Grazie mille. Allora ragazzi essere chip leader per chi non lo sapesse che cosa vuol dire essere chip leader all'asta del Fantacalcio vuol dire quel particolare momento dell'asta in cui siamo più ricchi di tutti. Essere chip leader ha sicuramente dei vantaggi. Essere più ricco degli altri in un determinato momento dell'asta ha sicuramente dei vantaggi però ricordatevi una cosa che ha la base sempre di ogni discorso che riguarda il budget. Il budget è uguale per tutti quindi se noi in un determinato momento dell'asta siamo più ricchi degli altri non vuol dire che siamo più bravi degli altri. vuol dire semplicemente che per vari motivi volutamente oppure no gli altri prima di noi hanno speso di più. Probabilmente se hanno speso di più fino a quel momento vuol dire che almeno sulla carta hanno anche fatto una rosa migliore della nostra. Quindi essere chip leader comunque da un lato ti dà dei vantaggi a livello di controllo e gestione dell'asta ma allo stesso tempo ti mette anche una pressione addosso che altri potrebbero non avere. Partiamo però dai vantaggi. Io direi che sicuramente nel reparto dei portieri e della difesa essere chip leader lascia il tempo che trova nel senso che se anche tutti gli altri prendono un top in porta e noi andiamo su una scelta low cost arrivare alla difesa ed essere chip leader non ci fa molta differenza da un punto di vista strategico. Arrivare già al centro campo in una posizione un po' più dominante a livello di chip leader potrebbe darci dei vantaggi. Ad esempio, ipotizziamo che in un fantacalcio a 10 con o senza modificatore, qui conta poco. Tutti gli altri giocatori arrivano con un budget a grandi linee del 70%, ok? Mentre noi arriviamo al centro campo con un budget dell'80% abbondante. Vuol dire che tra difesa e porta abbiamo speso meno del 20%, fattibilissimo, ok? Quindi noi arriviamo con un vantaggio di circa 10 punti percentuali almeno sul secondo che ha più soldi in quell'asta del fantacalcio. Questo sicuramente ci dà un vantaggio perché quando iniziano ad uscire i primi nomi caldi lì in mezzo al campo, questo ci dà la possibilità di avere anche un po' più di elasticità a livello di budget per quel singolo nome che noi intendevamo prendere. Ad esempio, ipotizziamo che ci eravamo prefissati come tetto massimo di spesa un 8-9% per avere a tutti i costi quel giocatore. Se noi abbiamo un vantaggio di 10-11 punti percentuali e il nostro obiettivo è quello comunque di restare in una posizione abbastanza dominante, noi possiamo arrivare anche a spendere il 10-11% per quel giocatore lì perché tanto poi anche gli altri per forza di cose dovranno comprare degli slot a centro campo. E quindi, se anche dopo il nostro acquisto principe a centro campo ci ritroviamo in una posizione di chip leader o comunque più o meno siamo alla pari con altri due fantallenatori, siamo dove volevamo essere, abbiamo speso un po' di più del previsto per quel giocatore ma abbiamo avuto la garanzia di aver iniziato il centro campo nel migliore dei modi. Ecco, a questo punto ovviamente da lì in poi dipende un po' da quello che vogliamo fare perché se partiamo e iniziamo a fare il centro campo in una posizione di chip leader abbiamo sostanzialmente due strade. Magari il nostro obiettivo fin da inizio asta era arrivare chip leader all'attacco e in quel caso io allora dovremmo essere attenti nella gestione del centro campo, negli acquisti che faremo a centro campo, a restare sempre un gradino sopra gli altri a livello di budget. Questa è una cosa che si può fare, a cui bisogna però fare molta attenzione perché guardare tanto il budget per cercare a tutti i costi di rimanere nella posizione dominante di chip leader a volte ci può far perdere delle belle occasioni perché magari arriva il nome che volevamo nel momento in cui non volevamo arrivasse e a quel punto lì ci ritroviamo davanti a un bivio, lo prendo ma non sono più chip leader oppure non lo prendo e resto chip leader. Ricordiamoci sempre che la gestione del budget e anche la posizione eventualmente di chip leader deve essere sempre un mezzo per arrivare a vincere l'asta del fantacalcio e non deve essere il nostro obiettivo, cioè essere chip leader per tutta l'asta, essere i più ricchi per tutta l'asta ci può dare quella sensazione di potere, di dominio dell'asta ma in realtà poi non conta nulla. Quello che conta alla fine è aver fatto una rosa competitiva al fantacalcio che poi l'abbiamo fatta in una posizione di chip leader e in una posizione sempre di inferiorità a livello di budget anche questo poco cambia. Quindi occhio a non farsi prendere troppo dalla smania di dominio dal punto di vista del budget di essere chip leader perché poi questo spesso durante l'asta ci fa perdere delle occasioni. Ma ipotizziamo che il nostro obiettivo non era arrivare chip leader all'asta davanti ma farsi un grande centrocampo. A quel punto pochi problemi. Noi inizieremo il centrocampo in una posizione da chip leader, faremo quello che dobbiamo fare sfruttando comunque l'andamento sui nostri dalle dei prezzi all'asta del fantacalcio a centrocampo dove solitamente avviene sempre e poi in attacco magari ci ritroveremo nella posizione 3, nella posizione 4 a livello di budget su 10 giocatori e faremo quello che dobbiamo fare in attacco. Se invece il nostro obiettivo come dicevo prima era arrivare comunque lì davanti dovremmo essere bravi nome per nome a volte a lasciare, a volte a prendere, cercando sempre e in questo caso è fondamentale di fare molta attenzione al budget dei nostri avversari. Cioè se c'è un concetto chiave nella posizione di chip leader e nell'obiettivo di arrivare chip leader all'attacco è il concetto di budget relativo. Quindi sì guardiamo quanto stiamo spendendo noi ma soprattutto quanto stiamo spendendo noi in relazione a quanto stanno spendendo gli altri e anche lì poi bisogna capire che cosa vuol dire arrivare da chip leader in attacco. Perché io posso arrivare da chip leader in attacco con un paio di punti percentuali di distacco. Ok sono sempre chip leader ma a livello di dominio dell'asta cambia relativamente poco perché uno due punti sono davvero nulla. Posso arrivare invece all'attacco da chip leader con 9, 10, 11, 12 punti percentuali di distacco a livello di budget e allora lì sì che posso avere un vantaggio strategico. Ovviamente e parliamo sempre di vantaggi per ora arrivare all'attacco da chip leader è forse un qualcosa a cui tutti almeno una volta abbiamo aspirato all'asta del fantacalcio. Perché anche giustamente c'è la convinzione che l'attacco sia il reparto sicuramente più importante in ottica bonus e arrivare con un bel vantaggio di crediti rispetto agli altri può sicuramente darci dei vantaggi. Iniziamo col dire però una cosa fondamentale che abbiamo già accennato prima. Se noi arriviamo con un netto vantaggio a livello di budget in attacco rispetto ai nostri avversari è molto logico aspettarsi che fino all'attacco noi non abbiamo costruito questa grandissima rosa. Almeno o siamo riusciti davvero a scovare tutti i talenti nascosti, le sorprese, gli underdog sia in porta sia in difesa sia a centro campo oppure è probabile che almeno fino all'attacco almeno in uno o due reparti siamo un po' andati al risparmio e quindi attenzione perché a quel punto lì avremo due tipi di pressione e qui iniziamo un po' a parlare degli svantaggi di essere chip leader. Da un lato avremo la pressione di tutti gli altri fantallenatori che comunque ci marcheranno stretto perché noi abbiamo conservato soldi per tutta l'asta e quindi è ovvio che i nostri obiettivi saranno soprattutto alcuni attaccanti grossi lì davanti. Allo stesso tempo abbiamo anche una pressione nostra interna perché siamo consapevoli che fino all'attacco non abbiamo la rosa migliore degli altri e quindi quel vantaggio competitivo che comunque dobbiamo creare rispetto ai nostri avversari per forza di cose nel nostro caso lo dovremo andare a creare a generare proprio nel reparto d'attacco e vi posso assicurare che l'attacco storicamente è uno dei reparti più difficili dove creare questo vantaggio competitivo perché è vero che abbiamo più soldi degli altri ma è anche vero che basta che due tre quattro fantallenatori capiscano la situazione dell'asta e non dico che si coalizzino tra di loro ma sicuramente possono ostacolarci in diversi modi eccoli che quel vantaggio competitivo di 7 8 9 10 11 12 punti percentuali potrebbe sfumare su uno o due nomi semplicemente perché ci hanno alzato quei giocatori. Quindi avere un vantaggio competitivo a livello di budget? Assolutamente sì. Essere chip leader se sappiamo comportarci da chip leader è un vantaggio e ora faremo un paio di esempi in attacco ma attenzione. Parliamo di alcuni esempi concreti pratici dove essere chip leader in attacco è un vantaggio. Innanzitutto molto dipende dall'ordine di chiamata che è un qualcosa che viene spesso sottovalutato ma il mio consiglio già all'inizio dell'asta visto che è all'inizio dell'asta che si deve sorteggiare chi chiamerà per primo difensori centrocampisti attaccanti portieri e così via e a seconda di chi chiama sappiamo poi anche il giro di chiamata. Ecco se noi vediamo ci accorgiamo che soprattutto in attacco saremo tra i primissimi a chiamare essere chip leader e avere anche un vantaggio cronologico di chiamata è sicuramente una combo molto importante perché perché io da chip leader ho praticamente il controllo della prima chiamata. Se voglio prendere un top a tutti i costi e sono chip leader con un bel distacco lì ho due scelte. Allora da un lato io potrei subito chiamare il mio top in quel caso lì però se da un punto di vista matematico e strategico la chiamata è giusta perché sappiate che storicamente un po' come con i portieri il primo top chiamato all'asta a parità di livello è quello che andiamo sempre un po' a pagare meno di solito è anche vero che se io mi sono tenuto soldi in porte in difesa centrocampo parte l'asta degli attaccanti chiamo subito un nome e inizio a fare asta sto praticamente mettendo in gioco le mie carte scoperte e tutti gli altri se sono furbi capiscono che io mi sono tenuto i soldi per quel nome lì e quindi cosa faranno mi alzeranno il giocatore magari anziché pagarlo il 33 35 me lo faranno pagare il 40 e ecco lì che mi sono già bruciato 6 7 punti percentuali di distacco che magari mi sarei potuto risparmiare facendo un'altra chiamata perché da chip leader bisogna stare molto attenti alla prima chiamata e allora si possono fare altre cose ad esempio se io voglio un determinato top e sono chip leader alla prima chiamata potrei chiamare un altro top perché perché in quel caso lì vado un po' a mescolare le carte non gioco più a carte scoperte io chiamo un top faccio credere agli altri che quello è il top che voglio a tutti i costi loro inizieranno a fare l'asta e io poi quel top lì non lo prendo questa è una cosa che può essere importante perché magari intanto c'è qualcuno che scalerà di budget di 30 35 40 punti percentuale e un altro già ce lo siamo tolti ma nel nostro caso eravamo chip leader poco cambia a meno che quel fantallenatore non fosse il secondo con più soldi ma soprattutto abbiamo un po' mescolato le carte perché tutti si aspettavano che essendo chip leader noi aspettavamo di chiamare quel giocatore e invece poi noi quel giocatore lì non lo andiamo a prendere quindi a quel punto lì un po' della pressione si andrà a spostare anche sui nostri avversari un'altra chiamata intelligente che possiamo fare ed è quella che personalmente solitamente io faccio sempre se mi ritrovo ad essere chip leader è andare a chiamare un top basso perché perché la chiamata del top basso è una chiamata che ha due grossi vantaggi per noi che siamo chip leader innanzitutto ci permette di iniziare a costruire un reparto competitivo avere già lì uno slot che ci può fare 12 13 14 gol e 6 7 8 9 10 assist innanzitutto ci permette appunto di mettere il primo mattoncino del nostro attacco una chiamata che io solitamente da anni faccio sempre se le situazioni me lo permettono cioè se ho abbastanza budget più degli altri e allo stesso tempo soprattutto sono uno dei primi a chiamare è Berardi cioè la classica chiamata di appunto un top basso che potrebbe andare tra il 18 e il 20% del budget e che solitamente è una chiamata che viene sempre sottovalutata perché viene sottovalutata allora innanzitutto andare a chiamare uno alla Berardi un top basso a noi che siamo chip leader facciamo che tutti sono arrivati col 50% del budget e noi siamo arrivati col 60 se noi compriamo Berardi al 20 andiamo al 40% del budget non siamo più chip leader vero ma siamo comunque in una posizione di vantaggio rispetto a tutti gli altri perché anche loro prima o poi dovranno comprarsi degli attaccanti e un gap del 10% vi posso assicurare che lo recuperiamo subito perché tutti i top che verranno chiamati andranno sicuramente a più del 10% e anche giocatori simil Berardi potrebbero andare magari al 15, al 18, al 20 e così via quindi chiamare subito Berardi o uno come lui sicuramente può essere un bello vantaggio dico Berardi ma in determinate stagioni anche il nome di Leao poteva andare bene inoltre c'è un grosso vantaggio nel chiamare subito un top basso di questo tipo che tutti quelli che a livello strategico sono già indirizzati sul prendere un grande top per forza di cose non parteciperanno così tanto all'asta per Berardi perché? Perché se io ho il 50% del budget io non chip leader e compro Berardi al 20% circa e mi ritrovo al 30% del budget so già che difficilmente poi riuscirò a competere con gli altri su quei top che potrebbero andare al 30, 35, 40% cioè banalmente se ci sono 4, 5 fantallenatori che a tutti i costi vogliono uno tra Ossimene e Lautaro Martinez giusto per fare un paio di nomi è molto probabile che non possano come primo nome all'asta in attacco andare a fare asta su Berardi e quindi cosa faranno? Un po' fino al 10-12% faranno asta perché comunque a quelle cifre se si prende un Berardi si fa sempre un gran colpo ma poi inizieranno a non partecipare più e quindi è molto probabile che noi con Berardi ci ritroveremo a fare l'asta con al massimo uno o due fantallenatori e alla fine se lo vogliamo davvero noi nel nostro caso sia che lo paghiamo il 18 sia che lo paghiamo il 20 sia che lo paghiamo il 22 possiamo farlo abbiamo il dominio del budget e ci prendiamo il nostro top basso quindi questa solitamente è la chiamata che io consiglio però non sempre le cose vanno così magari a volte ci ritroviamo ad essere chip leader e ad essere gli ultimi a chiamare in attacco in quel caso lì due sono i consigli il primo consiglio è quello a inizio asta di valutare se effettivamente può essere un vantaggio arrivare da chip leader in attacco sapendo che saremo poi tra gli ultimi a chiamare in attacco secondo consiglio se comunque siamo decisi ad essere chip leader lì davanti dobbiamo essere bravi a non far capire chi vogliamo davvero quando verranno chiamati i primi nomi dell'attacco il mio consiglio è quello di partecipare un po' a tutte le aste siamo chip leader sappiamo più o meno a quanto potrebbero andare quei determinati giocatori e possibilmente il mio consiglio è quello che se noi siamo chip leader abbiamo una decina di punti di distacco rispetto agli altri cerchiamo come primo o secondo nome di andare a prendere quel terzo slot da 10% circa di budget che a inizio asta come per il top basso spesso viene sottovalutato perché gli altri si stanno tenendo i soldi per i top noi il top se lo vogliamo lo potremo comunque prendere però iniziamo a fare dei colpetti all'8, al 9, al 10% che gli altri non si possono permettere di fare perché poi se no si ritroverebbero troppo corti a livello di budget questo è fondamentale ragazzi posizione da chip leader ma anche posizione nell'ordine di chiamata in attacco ovviamente però come vi dicevo prima essere chip leader non è tutto rose e fiori essere chip leader ha anche degli svantaggi e vi posso assicurare che tante volte ho visto fantallenatori arrivare nella posizione di chip leader in attacco e poi rovinarsi completamente l'asta perché? ma un po' lo abbiamo già detto prima perché se io arrivo da chip leader all'asta in attacco ho praticamente detto a tutti i miei avversari il tipo di attacco che potenzialmente vorrei fare ok? può essere un attacco formato da un super top e da un top basso e magari da altri slot bassi potrebbe essere un doppio top basso più altri top bassi potrebbe essere il doppio top e poi coperture ma sostanzialmente a prescindere dalla conformazione del mio attacco sicuramente ho detto ai miei avversari che voglio fare un grande attacco altrimenti non mi sarei conservato così tanti soldi quando c'è una situazione del genere se gli altri fantallenatori sono furbi e capiscono un po' le dinamiche del mercato cercheranno in tutti i modi un po' di ostacolarci a livello di prezzo quindi noi dobbiamo essere consapevoli che arrivare nella posizione di chip leader lì davanti non è mai un vantaggio a livello strategico ok? è un vantaggio a livello di gestione dell'asta se siamo bravi a gestirla ma a livello strategico non è mai un vantaggio perché conviene sempre a mio parere essere in una posizione medio alta a livello di budget in attacco quindi su dieci squadre magari essere il terzo il quarto stare un po' nell'ombra e approfittare a volte dell'attendismo e degli altri fantallenatori e soprattutto del chip leader dico questo perché molti chip leader fanno determinati errori e tra poco ne parleremo e se ci pensate è una cosa particolare il fatto che tutti i fantallenatori si preoccupino del chip leader perché è vero che quello lì è quello che ha più soldi all'attacco ma se io fossi un fantallenatore esperto non mi dovrei preoccupare di chi ha più soldi in attacco ma di chi ha fatto la rosa migliore fino a quel momento nell'asta del fantacalcio io dal avversario ho molta più paura di uno che arriva col 45% in attacco e vedendo la sua rosa ha fatto un'ottima rosa sia in porta sia in difesa sia a centro campo rispetto a uno che arriva col 60-65% in attacco ma poi vedo la rosa e ha fatto una rosa assolutamente penosa fino all'attacco io avrei molta più paura del primo però spesso si ha più paura di chi ha più soldi dimenticandosi che alla fine non vince il più ricco ma vince quello con la squadra migliore dicevamo però prima che un chip leader può commettere vari errori e devo dire che bene o male il tipo di errori che si possono fare da chip leader sono sostanzialmente tre uno lo abbiamo detto prima strategia troppo attendista cioè io sono chip leader mi sono conservato questo tesoretto fino alla fine lascio passare il primo nome perché pensavano tutti che lo volevo ok lo lascio stare lascio passare il secondo lascio passare il terzo lascio passare il quarto c'è quel top basso lì che è andato un po' più alto del previsto lasciamo passare anche lui insomma iniziamo a far passare troppi nomi e a quel punto lì poi ci ritroviamo in una posizione di stradominio a livello di budget ma c'è un grosso problema non ci sono più nomi all'asta del fantacalcio cioè ci sono ma sono nomi che non ci fanno così tanto la differenza e il rischio è quello che poi alla fine siamo costretti per forza di cosa a pagare il 15 il 18 il 20% giocatori che valevano al massimo il 10 12% perché siamo costretti perché non c'è rimasto altro quindi la strategia attendista se siamo chip leader è spesso l'errore che non va assolutamente fatto il secondo errore però è quello di avere troppa fretta perché è vero che se siamo chip leader spesso una strategia aggressiva è giusta perché andiamo a spostare la pressione da noi ai nostri avversari ma è anche vero che non ha alcun senso essere chip leader e dopo 4-5 chiamate di attaccanti abbiamo già finito il budget a meno che proprio vengano chiamati i nomi che volevamo a tutti i costi però è difficile perché spesso in attacco è giusto avere degli obiettivi ma è anche giusto poi saper cogliere le occasioni che si presentano sempre durante un'assa del fantacalcio è stato un po' uno spreco poi magari abbiamo comunque fatto un bel attacco ma è stato un po' uno spreco quindi ok non essere troppo attendisti ma attenzione anche a non avere troppa fretta lì davanti e infine il terzo errore che è quello un po' più particolare da non fare è quello di sbagliare la gestione dell'asta a livello di budget in determinati momenti dell'attacco mi spiego meglio perché bisogna fare degli esempi da chip leader potrebbe capitare che dopo che un po' tutti hanno fatto il loro primo acquisto ci ritroviamo in una posizione dove non siamo più chip leader perché magari siamo stati bravi e abbiamo preso il nostro Berardi al 20% ci ritroviamo tra la seconda e terza posizione a quel punto lì dobbiamo essere bravi un po' a girare il gioco cioè è vero che non siamo più chip leader ma a livello di attacco non conta più essere chip leader se sono già stati chiamati degli attaccanti conta avere l'attacco migliore in rapporto al budget restante magari c'è qualcuno che è più ricco di noi ok ma semplicemente perché anziché prendere un topo basso si è preso un terzo slot e io non devo avere paura di situazioni del genere ok quindi che cosa devo fare devo sempre cercare di restare comunque tra le prime 3-4 posizioni a livello di budget non devo avere l'ansia la smania di essere sempre chip leader dominante perché poi una volta che vengono presi i primi nomi non conta più e devo essere bravo a sfruttare e questa è una cosa fondamentale che vale per il chip leader ma vale anche per il secondo, terzo, quarto a livello di budget devo essere bravo a sfruttare gli errori altrui e gli errori altrui possono essere errori di strategie attendiste fretta nel completare l'attacco poca concentrazione su alcune chiamate costruzione di coppie che poi possono essere problematiche esempio se so che c'è un giocatore che ha già preso l'attaccante di una determinata squadra big e so che quello da un punto di vista del budget è il mio fantallenatore di riferimento con il quale sto battagliando su tanti nomi io come chiamata potrei fare il nome che gioca con quell'attaccante che ha già preso lui se lui è un fantallenatore abbastanza esperto sa che più di tanto non può alzarlo perché poi si ritrova con una coppia dell'Etheria ecco lì che sfrutto il momento sfrutto la sua chiamata per andare a prendere a un prezzo più basso l'altro giocatore insomma il terzo errore da non fare se sei in una posizione di chip leader o comunque di dominio a livello di budget è quello di rilassarsi sulla nostra posizione dominante e non sfruttare tutte le occasioni che si presentano all'asta e vi posso assicurare che soprattutto in attacco le occasioni arrivano sempre ragazzi questo era quello che avevo da dirvi per quanto riguarda la posizione da chip leader ovviamente torneremo a parlare di asta torneremo a parlare di dinamiche di strategie per quanto riguarda l'asta del fantacalcio ma oggi volevo farvi un po' un focus appunto sull'essere chip leader fatemi sapere la vostra anche qui sotto nei commenti io vi saluto vi ringrazio mi raccomando like mi raccomando iscrivetevi al canale grazie mille ciao a tutti e alla prossima ciao 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 ciao